Il padre del patriarcato, il braccio armato dello Stato, dice che sono il problema, giustificando il suo sistema. Il patriarcato punta il dito e ci giudica il punito, il nostro castito è la violenza che ora vivo. E' l'innicidio, impunità per l'assassino, e l'affuso, e lo stupro, e la colpa non è mia nel nostro casale per la via. E la colpa non è mia nel nostro casale per la via, e la colpa non era mia nel nostro casale per la via. I giudici, lo Stato, la Chiesa, e lo Stato oppressore è un macio stupratore. E lo Stato oppressore è un macio stupratore. E lo Stato oppressore è un macio stupratore.